Questo è un biscotto, è una frolla con latte, è un biscotto tipico della provincia di Vicenza, questo è di Marano, Marano Vincentino. È un'antica ricetta, un po' revisionata, ma è tantissima questa ricetta, si chiama Parpagnaco, se vai via Marano è un prodotto tipico ed eco anche questo. Vediamo come si fa. Si fa una treccia così. Me la fai anche un po' più piano perché così vediamo quanto si accavalla. Questo viene spennellato con l'albume, zucchero in granella e zucchero semolato, è a posto. Super, super. Dopo facciamo un altro prodotto tipico della mia provincia di Marano, sempre fatto con la farina di mais, si chiama Max Maranero, Marano, deriva da lì, è tipico anche questo delle nostre parti. E si chiama? Zaletto. In tutto il Veneto ci sono i zaletti, ogni provincia fa al suo modo, però noi usiamo la farina tipica proprio di Marano, Maraneo. Grazie.